Il quadro è allarmante. In Italia nel 2022, ultimo anno di cui si hanno rilevazioni ufficiali, le aggressioni al personale sanitario sono state più di 1600 in aumento rispetto agli anni precedenti. Se si escludono i casi di Covid-19, che hanno colpito gli operatori sanitari più di qualsiasi altra categoria di lavoratori, circa il 10% degli infortuni occorsi a chi lavora in corsia e riconosciuti dall'Inail, è riconducibile ad un'aggressione e tra le percentuali del report ce n'è una che colpisce in maniera particolare. Ad essere aggredite sono soprattutto le donne, che fanno registrare oltre il 70% dei casi di infortunio. In massima parte si tratta di violenze perpetrate da persone esterne alle strutture sanitarie come i pazienti e i loro parenti. Nel quinquennio 2018-2022 il 37% delle aggressioni si è verificato in ospedali, case di cura e studi medici, il 33% in case di riposo, strutture di assistenza infermieristica e centri di accoglienza, mentre il restante 30% in altre strutture non residenziali. Tra le professioni più colpite ci sono i cosiddetti tecnici della salute, come infermieri o fisioterapisti, che risultano essere un terzo degli aggrediti, seguiti dagli operatori sociosanitari e da quelli socioassistenziali, mentre solo, si fa per dire, il 3% dei medici risulta vittima di aggressioni. Nella nostra provincia nel 2023 si erano verificati diversi episodi violenti che avevano spinto la prefettura a istituire presidi di polizia fissi negli ospedali di Pavia, Voghera e Vigevano.